28 punti, 28 punti, chiudiamo il girone d'andata al giro di Boa con, ditemelo voi, 28 punti, bravissimi ragazzi, bravissimi, settimo posto in classifica, agguantato e nostro in solitaria, a meno un punto dal sesto posto del Cagliari, a più 14 dal terzo ultimo posto che vuol dire Europa League, a meno 12 dalla salvezza, insomma lo possiamo dire, questo campionato del Parma è eccezionale, voto 7 e mezzo in pagella ma proprio sicuro al 100% perché ieri c'è stata veramente la prova del 9 in cui il Parma doveva dire vediamo un po' se sei una squadra da zona retrocessione o sei una squadra d'Europa League e abbiamo dimostrato secondo me di essere una squadra da metà classifica verso l'alto, ovviamente verso l'Europa League, verso l'Europa che conta perché? Ne andiamo a parlare adesso con calma e velocemente anche perché non ho moltissimo tempo quindi velocizziamo tutto innanzitutto chiedo scusa per portarvi video del post partito di Parma Lecce terminata 2-0 per i Ducali adesso che è il giorno dopo ma ieri era allo stadio, ho preso un freddo incredibile, sono tornato a casa che era alle 11 e mezza, non ce la facevo a portarvi video quindi ho detto rimandiamo a domani, tanto chi mi ama, mi segue, chi vuol sapere le cose del Parma le segue lo stesso tra l'altro stasera ragazzi non perdetevi assolutamente la live qua sul secondo canale dove parleremo appunto del Parma insieme ad Andrea Concare insieme al Crusader parleremo della partita e parleremo di tutta la giornata di Serie A mi raccomando ore 21 a contro calcio, sintonizzatevi sul canale, parliamo di Parma Lecce dunque, come si era messa la partita? Stavo già lì per dire te pareva classica partita del Parma in cui va a giocare contro una squadra piccola e non riesce a pungere, non riesce a vincere una partita quelle classiche partite del Parma dove probabilmente subisci il gol e l'altra squadra poi si chiude visto che subisci il gol della domenica a caso, completamente a caso, l'altra squadra si chiude e non riesci più a far nulla magari come è successo col Verona o come è successo col Brescia che sei riuscito a segnare gli ultimi minuti vai a pensare, ecco adesso andrà male sicuro un'altra volta il primo tempo mi ha lasciato un po' perplesso nel gioco perché eravamo veramente molto lenti nel fraseggio poco reattivi, con pochissime idee quando c'era da crossare alto, crossavamo basso, quando c'era da crossare basso, crossavamo alto una lentezza disumana Hernani nel primo tempo a me non è assolutamente piaciuto come regista perché rallentava completamente il ritmo non c'era quel regista che ti verticalizzava con due tocchi e ti buttava il pallone verso inglese che era tornato in ottima forma, l'ho visto veramente molto molto bene allargando il gioco verso Kuluseschi e Kurtis che in realtà hanno fatto più i trequartisti centrali più che gli esterni, era una sorta di 4-2-3-1, quasi un 4-3-2-1 era un modulo particolare quello di ieri, sempre al solito 4-3-3 ma un po' come posso dire modificato ecco con Kurtis che secondo me ha giocato una discreta partita, mi è piaciuto abbastanza tra l'altro bisogna anche dire Kurtis, Kuluseschi, Kucca e QQQ ce li abbiamo noi, fantastico, come creare confusione ieri ad entrare allo stadio non capivo chi era Kurtis, chi era Kuluseschi, chi era Kucca erano tutti un misto, tutti biondi, poi tra un po' è andato anche Jacoponi in attacco pensavo che Jacoponi fosse Kucca, non ci ho capito più nulla all'improvviso ma quelli sono problemi miei ovviamente buona prestazione veramente di Kurtis, buonissima prestazione di Kucca e un Kuluseschi che nel primo tempo mi è parso un po' sbagliare un po' troppo ecco mentre nel secondo tempo si è ripreso ottima prestazione secondo me di inglese al ritorno ma ma quanto cazzo è forte Cornelius quanto è forte Cornelius ragazzi ma di cosa stiamo parlando? il vichingo, il vichingo Cornelius, io veramente sono pazzo io quando vedo giocare Cornelius faccio fatica a trattenere la mia eterosessualità ecco non so come posso dirvi, non sono eterosessuale verso Cornelius non so come farvi capire, cioè calcisticamente parlando ovviamente non fisicamente, calcisticamente parlando perché è un giocatore eccezionale veramente eccezionale, cioè io guardavo il riscaldamento ogni tocco che faceva per me era oro, cioè ragazzi veramente innamorato perso di Cornelius tocca palla questo e fa delle cose eccezionali ovviamente lo dico scherzando però a parte gli scherzi è un tipico giocatore dove tu non gli daresti due euro ok Cornelius, eppure quando lo vedi giocare cambia completamente la partita perché riesce a stopparti il pallone in maniera eccelsa fisicamente è un mostro è sempre al posto giusto al momento giusto te la butta dentro quando c'è da buttarla dentro e ti risolve le partite insomma ragazzi Cornelius è veramente un giocatore eccezionale e il Parma secondo me ha trovato la sua galina dalle uova d'oro perché Cornelius quando è in forma ragazzi quando è in forma vedrete ne vedrete delle belle di Cornelius e non ha finito qui non ha finito qui il vichingo forza vichingo facci innamorare tutti mi darete tutti quanti ragione perché ci sarà un motivo se ho fatto l'abbonamento grazie all'acquisto di Cornelius ci sarà un motivo e ve lo sta dimostrando il vichingo ve lo sta dimostrando tra l'altro ieri allo stadio abbiamo azzeccato tutti i gol eravamo lì diciamo chi segna secondo te? ma Jacoponi su calcio d'angolo poi entra e segna Cornelius ci aspettavamo anche il gol di Kucca ma non è arrivato per pochissimo insomma partita secondo me un po' a due facce primo tempo dicevo non mi è piaciuto secondo tempo invece siamo usciti fuori siamo riusciti a verticalizzare molto di più mi è piaciuto tanto quando è entrato Scozzarella si è visto che ha velocizzato molto di più l'azione mi ha fatto molto ridere il fatto che sullo 0-0 avevamo rallentato il ritmo da morire appena abbiamo segnato e lì dovevamo rallentare il ritmo abbiamo velocizzato ancora di più quindi ho detto vabbè ok va bene così accettiamo la cosa però insomma prova di maturità importante perché Jacoponi è riuscito a segnare il suo secondo gol in Serie A grazie a un calcio d'angolo perfetto di Hernani Cornelius è trovato ancora il posto giusto al momento giusto Gaiolo voto 7 e mezzo secondo me ha fatto una partita eccezionale quanti cross avrà fatto lo sa soltanto lui mi è piaciuto molto anche Darmian mi sono piaciuti tutti sempre ha fatto anche lui una bella parata Scozzarella inglese e Cornelius si vede che li abbiamo recuperati ed è una cosa una notizia importantissima insomma ragazzi 28 punti io sono stracontento per questo giugno d'andata del Parma ma adesso non è finita eh non è finita qua continuiamo facciamo sti 40 punti più velocemente possibile più mancano tre sono tre partite tre vittorie facciamo ste tre vittorie più velocemente possibile e poi ci divertiamo e poi ci divertiamo fatemi sempre un commento qui sotto cosa ne pensate nel caso mi sia scordato di qualcosa ne parleremo questa sera ore 21 a contro calcio mi raccomando guardate la trasmissione guardate la live che faremo qua sul secondo canale grazie mille di aver visto questo video complimentissimi mi stavo per dimenticare complimentissimi ai tifosi del Lecce che erano tantissimi a lunedì sera alle 20.45 un freddo cane a Parma non è da tutti quindi stracomplimenti a loro grazie mille di aver visto questo video un saluto ciao Papirus e forza Parma dai grazie mille di aver guardato il video